A Nebbiuno una novità. In programma la realizzazione di un portale informatico che permetterà ai proprietari delle strutture ricettive extra alberghiere di comunicare in tempo reale gli arrivi ed inviare quindi tutta la documentazione richiesta al comune. Dopo la recente introduzione dell'imposta di soggiorno applicata su case vacanza e su bed and breakfast, il sito permetterà al comune una maggiore sorveglianza sul rispetto delle norme, di controllare le presenze turistiche e di valutare l'andamento degli arrivi. Per realizzare una crescita dell'incoming e per rilanciare l'immagine turistica di Nebbiuno, secondo l'amministrazione è indispensabile la promozione non unicamente del paese, bensì di tutto il territorio dell'alto vergante. È necessaria una collaborazione tra i comuni della zona e una cooperazione tra le amministrazioni e le associazioni che si occupano di promozione, ha spiegato Elis Pia Terra, sindaco di Nebbiuno. Ci piacerebbe organizzare una serie di attività e di attrazioni guidate alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Vorremmo inoltre migliorare la mobilità attraverso il servizio pubblico. Il via negli scorsi giorni ha anche i cantieri per la riasfaltatura di alcune vie del paese e in corso anche i lavori per l'illuminazione di poggio radioso a frazione di Nebbiuno. Un'opera, quest'ultima, richiesta da tempo dai cittadini e che si concluderà a fine mese. In programma invece i lavori per la riqualificazione dell'ingresso di Nebbiuno che avranno inizio in estate. Verranno riorganizzati i parcheggi in entrata e verranno introdotte delle e-wall per migliorare l'estetica e per dare un benvenuto più accogliente a chi arriva in paese.